Musica Sono passate le 96 ore di ossigeno a disposizione sul batiscafo disperso, anche se gli esperti sottolineano che si tratta di una stima imprecisa e che se i passeggeri a bordo del batiscafo disperso hanno adottato alcuni accorgimenti per consumare meno, come cercare di rimanere calmi e non mangiare, potrebbe esserci ancora qualche ulteriore ora di autonomia. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha annunciato oggi che sta continuando le operazioni di salvataggio del sommergibile Titan e dei suoi cinque occupanti dispersi, vicino al relitto del Titanic, nonostante il temuto esaurimento delle scorte di ossigeno. I suoni rilevate all'inizio di questa settimana nella ricerca del sommergibile erano generati dal rumore di fondo dell'oceano, secondo le prime analisi della Marina statunitense. La moglie del pilota del Titan è anche la pronipote di Isidor e Ida Strauss, due passeggeri di prima classe che erano a bordo del Titanic quando affondò nel 1912. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, in un'inchiesta del PM Paolo Storari, ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza per quasi 48 milioni di euro nei confronti di S. Lunga, in un'indagine con al centro una presunta somministrazione illecita di mano d'opera. È stata accertata, secondo l'accusa, una complessa frode fiscale. La condotta di S. Lunga, di carattere fraudolento, dura da numerosi anni e ha comportato non solo il sistemico sfruttamento dei lavoratori, ma anche ingentissimi danni all'erario. Lo scrive il PM di Milano, Paolo Storari, nel decreto di sequestro. Sono indagati l'ex direttore finanziario del Colosso dei Supermercati, Stefano Ciolli, e Albino Rocca, attuale direttore finanziario, ed S. Lunga per la responsabilità amministrativa degli enti. La Corte Europea dei Diritti Umani ha dichiarato inamissibili una serie di ricorsi contro l'Italia, di coppie dello stesso sesso, che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita legalmente riconosciuti all'estero per bambini nati usando la maternità surrogata. La stessa decisione è stata presa anche per il ricorso di una coppia eterosessuale. La Corte, in una nota, ha spiegato le ragioni della sua decisione. Il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori intenzionali non si è scontrato con un'impossibilità generale e assoluta dal momento che avevano a disposizione l'opzione dell'adozione e non l'avevano utilizzata. Sarà il presidente Antonio Tajani ad avere l'onere e l'onore di guidarci perché il vicepresidente di Forza Italia, perché il coordinatore nazionale di Forza Italia è uno dei cofondatori di Forza Italia ed è giusto che sia così, lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, fuori da Palazzo Montecitorio rispondendo a chi chiedeva quale fosse il profilo del futuro presidente del partito. Per noi, indipendentemente da quello che verrà dopo, l'eredità di Berlusconi lascia un vuoto incolmabile. Detto questo, ha aggiunto, noi abbiamo un'eredità che lui ci ha lasciato, questa eredità abbiamo il dovere morale di portarla avanti. Lo smart working nella pubblica amministrazione è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre per i lavoratori fragili. Lo prevede un emendamento della relatrice al decreto lavoro, Paola Mancini, di Fratelli d'Italia. Approvato dall'Aula del Senato. Con i lavori dell'Aula è stato anche potenziato di 5 milioni il Fondo per i familiari di vittime di infortuni mortali sul lavoro. E sono stati trovati fondi per ulteriori 7 milioni per la scala di equivalenza, per l'assegno di inclusione, garantendo così più disponibilità per i fragili, spiega la relatrice che si dice ampiamente soddisfatta. I dati sui prezzi al consumo della pasta rilevati dall'Istat per il mese di maggio segnano una riduzione dello 0,3% rispetto al mese precedente. Lo sottolinea una nota del Mimit che aggiunge, è un primo importante segnale di inversione di tendenza che premia l'azione del Mimit e del Garante per la sorveglianza dei prezzi, a cui ci si aspetta possa seguire un ulteriore e più significativo calo dei prezzi nei prossimi mesi. Oggi è prevista una nuova riunione della Commissione di Allerta Rapida sui prezzi per analizzare le dinamiche dell'ortofrutta.